Contro la riforma della prescrizione si schiera la Camera Penale di Avellino che ha spiegato le proprie ragioni nel corso di un incontro con la stampa. Il presidente Petrillo ha illustrato i dati statistici riferiti alle vere cause delle difficoltà di funzionamento della nostra giustizia. La nuova disciplina, in vigore dal prossimo 1 gennaio, prevede la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, per cui essa non potrà più maturare nei giudizi di appello e di cassazione. Gli avvocati penalisti italiani sono entrati in astenzione il 2 dicembre e vi rimandranno fino al 6, allo scopo di sollecitare le forze politiche a rimediare l'opportunità di una riforma tanto inutile quanto dannosa. Nel corso dell'incontro non sono mancate domande sulle vicende di maggiore attualità locale, che hanno suscitato prese di posizione anche differenti presso l'avvocatura associata. Il riferimento è l'indagine sul clan Partegno e le aste giudiziarie. Quando si pubblicano le notizie relative all'informazione di garanzia, alla perquisizione subita da Tizio, da Caio o da Sempronio, bisogna sempre premettere che ciò che è accaduto è la manifestazione di una tesi che attende di essere confermata. Il problema è che è una vicenda che coinvolge il Palazzo di Giustizia di Avellino. Ora, che siano coinvolti come destinatari di un'informazione di garanzia o come un decreto di perquisizione dei colleghi è una circostanza che a noi dispiace enormemente e tuttavia, come nei confronti di qualsiasi altro cittadino, noi diciamo che fin quando l'ipotesi dell'accusa non trova una conferma attraverso un passaggio davanti al giudice, i colleghi, come tutti i privati cittadini, a nostro giudizio non possono essere menzionati nome, cognome, residenza, domicilio, attività sulla stampa perché credo che l'avvocato, come il medico, come l'imprenditore, viva di reputazione. E allora, se noi non sappiamo, non c'è questo passaggio che ci dica il collegatizio è coinvolto in quanto ha commesso qualche fatto di reato, il tema è molto delicato per la stampa, me ne rendo conto, però la nostra idea è che la stampa, di fronte a questo, di fronte ad una semplice ipotesi dell'accusa, debba quantomeno osservare un omissis sulle persone indagate. Grazie.